Io non so della mia pelle, della mia carne. Sì, perché prima non ha mai fatto una cosa del genere, chiedere la colazione a letto con due uomini. Lui credeva essere uno dei suoi grazi, quando faceva il finto di soffermi, con la voce della sofferenza, che faceva il passaggio e bevano. Naturalmente, sono Achille Bonito Oliva, il critico, cioè il traditore, mai frontale all'opera. Al prossimo episodio